Amor per te, fiumi azzurri e colline e frateri, dove corrono dolcissime mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. È una cosa importante, è un messaggio che voglio dire al mondo. La prima cosa che mi viene in mente è, sembra banale, ma di essere felici, to be happy, perché la vita è uno schiacco di dita. Quindi prendi un obiettivo, fai quello che ti piace e portalo avanti fino alla morte, perché lo scopo della vita è emozionarsi ed essere felici. Quindi si felice. Da un anno io suono in strada e non faccio solo questo, ho un progetto, ho una band. Il nostro sogno è di portare un genere che è molto particolare poi in Italia, che è il metal, e di portarlo e fonderlo con il teatro. Quindi musica con il teatro, insieme. Noi cercheremo di farlo perché questo è il nostro sogno. Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. E ho nell'anima. In fondo all'anima. Grazie. 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 Grazie.